Il conflitto con un collega lo gestisco cercando un chiarimento Fondando direttamente il problema che ha generato questo conflitto cercando di chiarire immediatamente quello che è stato il motivo del dissidio Il confronto per me è sempre la cosa principale se ci sono persone qui dentro e ci sono che hanno più esperienza di me sono da più tempo di me qui dentro e diciamo il consiglio io l'accetto sempre molto volentieri Il rapporto con i colleghi deve essere secondo me sempre schietto, aperto dirsi sempre la verità in faccia, mai nascondersi dietro altre figure Secondo me l'unica cosa per andare avanti con i colleghi è anche quello di avere un rapporto anche di amicizia non solo di lavorativo, lavorativo però anche di amicizia infatti molte volte siamo stati per dire a casa c'è una mia o c'è una di altri colleghi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti